Ieri sera il Presidente del Consiglio ha emanato questo nuovo decreto dedicato all'emergenza coronavirus che da questo punto di vista cambia ulteriormente e irrigidisce, restringe ancora di più quelle che erano le norme che aveva emanato nel passato. È un passaggio molto delicato perché vi è consapevolezza anche attraverso il Comitato Scientifico del Governo che questo mese sarà decisivo per rallentare e invertire il senso di ampliamento dei contagi sul coronavirus. Certo per le città è un provvedimento molto particolare, molto difficile da accettare ma che le comunità debbono invece rispettare. È una condizione molto importante, è un segno di responsabilità, è un segno di civiltà per evitare che i rischi del contagio possano propagarsi in maniera incontrollata. Da questo punto di vista la provincia di Macerata ha fin qui tenuto rispetto alle altre province, proprio perché la responsabilità, il senso di appartenenza, direi anche il senso istituzionale dei cittadini e di tutti gli operatori è stato molto forte. Certo tutto questo cambia il volto delle nostre vie, delle nostre piazze, ma io credo che sia indispensabile immaginare, pensare e credere che la salute sia oggi il primo punto all'ordine del giorno nelle nostre attenzioni e nei nostri comportamenti. Ci sono alcune norme, alcune disposizioni molto stringenti che per quanto riguarda l'informazione la città potrà ritrovare sul nostro sito con tutte le note applicative ed esplicative circa alcuni aspetti non sempre chiarissimi. Aggiungo che ho provveduto in mattinata ad effettuare una chiamata attraverso alert a tutti i nostri cittadini indicando quelle che sono in realtà le disposizioni più importanti. Fra esse voglio ricordare evidentemente questa limitata capacità di circolazione, ad eccezione che per ragioni di salute, ragioni lavorative e per le necessità più importanti, tra cui evidentemente quello dell'acquisto degli alimenti di prima necessità. C'è un'altra disposizione che io continuo a ricordare perché la riconsidero, la ritengo tra le più decisive che è quella di restare a casa a tutte le persone che hanno sintomatologia da febbre da 37 gradi e anche sintomi da tosse. Non solo queste persone debbono restare a casa e chiamare il medico curante ma anche i propri familiari prima di uscire dall'abitazione è bene che verifichino la situazione della persona ammalata. Questo per evitare il rischio che una persona presa da influenza o da tosse possa in una qualche maniera eventualmente contagiato, possa in una qualche maniera far sì che i propri familiari circolino dentro alla città con il rischio di contagio. Questo è un elemento molto importante perché interrompe e fa divenire ancora più forte l'attenzione rispetto ai nostri comportamenti. Ho comunicato che ce la faremo, lo voglio anche dire grazie alla vostra televisione, ce la faremo. Dipende molto dai nostri comportamenti e io credo che la comunità maceratese ancora una volta sarà capace di uscire da questa vicenda difficile come ne sono capitate diverse in questi anni con maggior forza. A tutti voi dico insieme avanti con fiducia. A presto. Grazie.